Mi ha perso una schiava navola, però sono tantos. Sì, lì che appunto il tema centrante è quello sul debito, comunque sono un audit sul debito, cioè capire che questo debito è fermare il meccanismo che fondamentalmente ci sta mettendo tutti i bani, ci sta paralizzando. E parla della campagna, per lo dire, della dette, di cercare il meccanismo, di cercare questo meccanismo della dette, che ci sta attacando. Parla dell'auditoria della deuda, di parlare del meccanismo che non si sta attacando. A parlare di questo, intanto come relatori e come accennavo ieri, poi disponibili a un confronto con l'Assemblea, ci sono appunto delle persone che già si sono attivate sul tema. Sì, è una confronto con l'Assemblea, con le persone che hanno già trattato il tema. Sì, è una confronto con le persone che già hanno trattato questo tema. In particolare c'è Giulietto Chiesa che il tema lo sta trattando, diciamo, come organizzare una campagna nazionale per l'audit del debito pubblico, quindi una commissione che si occupi, una petizione popolare che chiede a una commissione che analizzi il debito pubblico. Giulietto Chiesa. Ok, d'abord, abbiamo Giulietto Chiesa che ha lanciato una campagna per l'audit del debito pubblico e che vuole creare una commissione per fare l'audit del debito pubblico. Il primo è Giulietto Chiesa che ha proposto una campagna per l'auditore della deuda, per creare una commissione per fare questo lavoro. Poi abbiamo Antonio, eh sì, Andrea Baranes, che, vabbè, diciamo, ha studiato anche tecnicamente tutti i meccanismi finanziari che ci hanno portato al debito e che ci spiegherà come il mercato finanziario anche è totalmente scollato da quello produttivo reale. Andrea Baranes, che ha studiato il sistema finanziario e che ci spiegherà come il sistema finanziario è totalmente desconectato da l'economia reale. Poi c'è Antonio Tricarico appunto che ci illustrerà quali sono gli scenari possibili nel momento in cui non si paghi il debito e come si possa comunque gestire un transitorio nel momento in cui ciò accada. Cioè è possibile avere un... che il fenomeno accada e che comunque il fenomeno è gestibile in sé. Antonio Tricarico, che ci spiegherà come quali sono le vieti possibili di transizione. e dicere che se non si pagano le vieti, ci sono le vieti possibili di transitorio e che ci sono le vieti possibili. Poi abbiamo Claudia Bettiol che sta promuovendo l'European common good e quindi un modo in cui i cittadini, le persone possano riapproprivarsi del debito comprato in un certo senso. Poi ci spiegherà bene. Poi ci spiegherà bene. Poi ci spiegherà bene. Un'altra via ancora. Si. Più o meno. Ehm... Comment? Claudia Bettiol che ci spiegherà dei common good e ancora una altra maniera di fare face alla che ci spiegherà come si stanno attivando sul tema del debito e ci illustrerà la situazione. spagnola. Ehm... 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 Inizio in ordine, così come sono posizionati. Prego Giulietto, fai piano piano. Buongiorno a tutti. Allora, intanto vi presento per chi non sa chi sono e per chi parlo. Io sono il fondatore di Alternativa, che è un laboratorio politico che sta nascendo adesso e che... Io volevo d'abord presentare, e quindi è il fondatore di Alternativa, un laboratorio. C'è il fondatore di Alternativa, che è il laboratorio. Parlo qui a nome anche del Comitato No Debito. Il Comitato No Debito si è costituito il primo di ottobre di quest'anno e sta sviluppando un'iniziativa che dovrebbe portare alla manifestazione nazionale a Milano, ai primi di marzo, intorno al 10 di marzo, per occupare Piazza Affari. Quindi, abbiamo anche una campagna che si chiama... Il nome di No Debito, non a la letto, che è nato il primo ottobre, e che continua a sviluppare il lavoro, fino al 10 di marzo, dove c'è una manifestazione che finirà per l'occupazione di Piazza Affari. Quindi, anche parlano del nome della campagna di No Deuda, che si chiama il primo ottobre, e che sta sviluppando il lavoro, e prevale una manifestazione del 10 di marzo, che finirà con l'occupazione di Piazza Affari. Come siamo molti, io mi limiterò a qualche considerazione. La prima di queste è che questa non è, come è stato scritto in un cartello qui dietro, non è una crisi, è un imbroglio. Sostanzialmente la crisi è un imbroglio. Sostanzialmente la crisi è un imbroglio. Questo imbroglio si spiega con una sola parola, anzi con tre parole, il Trattato di Maastricht. Tutti hanno sentito parlare del Trattato di Maastricht, ma quasi nessuno sa che cosa vuol dire. Allora, se noi capiamo che cos'è il Trattato di Maastricht, cioè che cosa è l'Europa di oggi, noi capiamo di che imbroglio si tratta. Questo vi faccio in due minuti. per comprendere questo arnazio, bisogna ringraziare il Trattato di Maastricht, che ha portato a l'Europa di oggi. Per comprendere l'arnazio, ci sarà spiegare, adesso, qu'è il Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht impone a tutti i paesi dell'Europa, dell'Unione Europea, di finanziarsi attraverso il mercato. Ogni Stato è obbligato dalla legge, dalla legge europea, a finanziarsi attraverso il mercato finanziario internazionale. Questo mercato finanziario internazionale è completamente truccato e decide quanto deve costare il nostro debito. Il Trattato di Maastricht dice che i Stati devono finanziarsi per il mercato finanziario internazionale e questo mercato è troppo. È maquillato. Beh, sì, non ho capito. Il Trattato di Maastricht prevoce che gli Stati devono finanziarsi attraverso il sistema finanziario internazionale, ma è un mercato che è completamente trucchato. Gli eventi di questa sera, di ieri sera e di oggi sui giornali chiariscono completamente la situazione. Le agenzie di rating americane, in particolare la Standard & Poor's, decidono che il debito europeo non è sostenibile e abbassano il tasso di credibilità dell'Europa. Il risultato finale, il nostro debito costerà molto di più e noi dovremo pagare un sacco di soldi di interesse. che tutto ciò che ha detto prima, ciò è illustrato, ciò è illustrato per le notizio di oggi e di questo mattino, del giornale, delle agence di rating americane abbassano la notte di alcuni paesi ciò che i intrati sono molto più elevati e dobbiamo pagare davvero molto l'argento per questa di sé che su 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 no su su con Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.